Ecco perché non hai ancora milioni di euro sul tuo conto in mano. Nel 2024, per fare soldi online, non devi vendere prodotti dalla Cina, avviare un'agenzia di marketing senza magari aver mai fatto marketing da te, o farti abbindolare dai tantissimi modelli di business che ti propongono là fuori. L'unica cosa che mi porta a generare milioni di euro è la vendita di corsi, consulenze o informazioni online o software. E quasi tutti potrebbero avviare questo modello di business. Ad esempio, sei bravo a fare qualcosa? Bene, potresti insegnarlo alle persone e farti pagare per quello. Ma ciò che frena la gente dal farlo è la famosissima sindrome dell'impostore. La sindrome dell'impostore è un fenomeno psicologico secondo il quale le persone dubitano delle proprie competenze, talenti o successi e hanno una paura persistente di essere smascherati in qualche modo. Nonostante ci siano prove esterne delle loro competenze, coloro che soffrono di questa sindrome attribuiscono il loro successo a fattori esterni come la fortuna o il pensare che abbiano ingannato magari gli altri facendogli credere di essere più intelligenti o competenti di quanto si percepiscono realmente. E adesso dirai No, Mick, ma io non ho questi problemi. Minchiate, ce li hai. Altrimenti non avresti 200 euro sul conto, ma avresti già avviato questo modello di business. E puoi farlo. Ma abbi il coraggio di partire, di farti il culo, di studiare, di stare accanto a chi c'è già riuscito e forse anche tu un giorno potresti riuscirci. In alternativa, però, puoi anche stare seduto sul tuo cazzo di divano a piangerti addosso mentre guardi il tuo conto in banca.